L'albergo può essere anche bello, la spiaggia fa schifo. Seguitemi. Il principe voleva salire. La cosa bella di questi mercati è che, se notate, sembra di stare da cartiere. Che cosa c'è dentro l'utero? Ops, dimenticavo, c'è anche un po' di Sicilia. La Vanna e la Roberta, sono due. Alla fine ce l'ha fatta.